La reazione Ignazio Mosere Ivana al GF VIP, aereo con dedica d'amore per loro, la reazione Ignazio Ivana al grande fratello VIP, arriva laero sorpresa, la loro reazione è quella degli altri inquilini. . Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuole esser lieto, sia, di domani non c'è certezza. Ignazio e Ivana sono belli, giovani eppure affiatati. . 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 Il ciclista, in compagnia di molti altri inquilini, sono rimasti sorpresi e stupefatti di quanto letto. Ivana fino ad oggi ha sempre parlato di una forte amicizia con Moser, senza però mai lasciarsi andare a qualche dichiarazione più scottante. . Tuttavia nel rivolgere lo sguardo al cielo, si è poi lasciata andare in un abbraccio affettuoso proprio con il bell'Ignazio, che le ha anche dato un tenero bacio sulla guancia. Spazio poi alle battute goliardiche e simpatiche di Impastato e di altri presenti. Moser e la marazzova al grande fratello VIP, amicizia o flirt. Ivana infine si è anche lasciata scappare una frase interpretabile, ma si sono fissati. Insomma, la bella modella si tiene ancora sulla difensiva, ma sembra non del tutto essere indifferente al fascino del ciclista. Un fascino e una bellezza a cui non è certo semplice rimanere del tutto indifferenti. Chissà che la bella giovinezza che fugge in fretta, a breve, non faccia sbocciare qualche germoglio d'amore tra i due. E chissà pure che cosa ne penserà il fidanzato della marazzova di questo tifo dei fan. . .